Come sapete tutti Maurizio Costanzo è venuto a mancare, eravamo amici, la nostra amicizia si è soprattutto sedimentata dopo la mia reinterpretazione di Se Telefonando, canzone che porta la sua firma nel testo. Maurizio da quel momento mi ha sempre accolto con maggiore entusiasmo nelle sue trasmissioni, ha sempre avuto un occhio di riguardo per me e sono maggiormente triste anche per questo, sono vicino a tutta la famiglia, a Maria, ai figli che stanno vivendo un momento di dolore molto molto intenso e succede proprio quando si perde un affetto importante. Ciao Maurizio, ti vorrò sempre bene e ti ricorderò sempre.